Io sono di Venezia, quindi andavo a scuola a Venezia, e mi ricordo che la mia maestra elementari ci diceva siete lenti come l'anno della fame, e l'anno della fame era il 17-18, quando letteralmente si moriva di fame. Una cosa che tendenzialmente dimentichiamo e non sappiamo è che negli imperi centrali è morta più gente di fame nella prima guerra mondiale che di bombardamenti nella seconda, perché si calcola che siano morte circa 500.000 persone per i bombardamenti nella seconda guerra mondiale, mentre sono morte circa 6-700.000 persone di fame nella prima guerra mondiale, a causa del blocco degli alleati, del blocco marittimo che impediva il commercio verso gli imperi centrali, ed è il vero motivo per cui gli imperi centrali hanno perso, perché non hanno perso sul campo. Non dimentichiamoci che alle ore 11 dell'undicesimo mese, dell'undicesimo giorno del 1918, i tedeschi stavano in Francia, quindi la guerra non era mai entrata nel territorio tedesco. Sono stati letteralmente presi per fame. Conseguenze particolarmente negative sono state i morti di fame che ci sono stati in Veneto, in Friuli, insomma ci sono delle foto agghiaccianti di, non mi ricordo se di Belluno o di Udine, ma insomma indifferente, tanto poco cambia, in cui nei banchi del mercato erano esposti i topi di fogne, perché si mangiavano, cioè qualsiasi cosa... c'è un romanzo che si chiama Non tutti i bastardi sono di Vienna, che ha vinto il campiello di Andrea Molesini, che racconta queste storie, appunto racconta che uno dei protagonisti di questo romanzo, il prete, ammazzava i topi per mangiarseli. Ma insomma è un romanzo, ma le storie sono vere. Delle conseguenze inaspettate, alcune positive, altre meno. Una è per esempio che usiamo il caffè per la prima colazione, perché nel 17 quando l'esercito si rischiara sul piave viene cambiata la prima colazione dei soldati e anziché dargli mele, nocciole, formaggio come vi è andato in precedenza, gli danno caffè per tenerli svegli. E questa cosa ha molto successo, tanto che quando i fanti tornano a casa continuano a usare il caffè per la prima colazione. Al contrario invece il riso viene respinto, perché i soldati dell'Italia al centro meridionale, che non erano abituati a mangiare il riso nelle minestre come invece i soldati dell'Italia settentrionale, trovavano queste minestre di riso che venivano riscaldate più e più volte assolutamente disgustose e quando tornano a casa si vogliono liberare del riso e non lo mangiano più. È il motivo per cui i risotti nell'Italia meridionale entrano in periodi molto recenti rispetto alla primavera mondiale e alla diffusione invece del risotto nell'Italia settentrionale. In teoria mangiavano in abbondanza e mediamente la sussistenza ha funzionato abbastanza bene, cioè i rifornimenti arrivavano ma non arrivavano in prima linea, perché a causa dei combattimenti, per cui i soldati soffrivano la fame ma immediatamente dietro alle prime linee il cibo c'era, mancava l'ultimo miglio si dice in termini attuali perché portare le casse cucina sotto il fuoco era complicato e per cui spesso non arrivavano in prima linea e quindi i soldati facevano la fame. C'era anche un molto scambio, molto, un certo scambio con i soldati austro-ungarici perché dicevo prima che gli imperi centrali soffrivano la fame e quindi gli austriaci non avevano da mangiare ma avevano sigarette perché la Turchia era alleata delle imperie centrali per cui aveva tabacco e si scambiavano, c'erano proprio lanci, le trincelle distavano spesso pochi metri e quindi i soldati austriaci lanciavano pacchetti di sigarette nelle trincelle italiane e in cambio ricevevano cibo. Dunque dal punto di vista patologico c'è ben poco perché anche non erano discipline ancora particolarmente applicate, lo stress da combattimento, presumo che ci fosse parecchia sindrome del golfo nella prima guerra mondiale solo che non lo sappiamo perché non veniva studiata. Il cordiale, la c'è un problema degli attacchi, per cui quando in trincea avvenivano distribuzioni straordinarie di liquore si sapeva che precedevano un attacco, anche perché uscire dalle trincee e andare con la baionetta contro le mitragliatrici austriache con i carabinieri che ti sparavano le spalle, non dimentichiamocelo, bisognava essere molto ubriachi per riuscire a farlo. Sì, è un po' un paradosso ma effettivamente è successo così perché a Pederoba, che è sulla destra Piave, quindi era in mano italiana, erano schierati gli chasseurs alpens francesi e di rimpettaia di Pederoba c'è Valdobbiadene che è appunto il centro della DOCGG del Prosecco Corneliano Valdobbiadene, per cui la battaglia del Piave, il 26-27 ottobre del 1918, i francesi, quindi io dico così, i soldati dello champagne, attraversano il Piave e liberano Valdobbiadene, quindi liberano la città del Prosecco. C'è però da dire che, insomma, è una cosa molto divertente ma io l'ho un po' tirata per i capelli perché nel 18 esisteva il Prosecco ma non aveva ancora le bollicine perché le bollicine gliele metteranno dopo. Grazie a tutti.